Per celebrare la vittoria e l'ingresso del Delta Volley Porto Viro in A2, l'amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia in Piazza della Repubblica e davanti al Palazzo del Municipio il Sindaco Maura Veronese ha premiato i campioni. Una grande bandiera con il simbolo Delta Volley Porto Viro si trovava al centro della piazza e i dirigenti e i campioni della squadra l'hanno portata sui gradini del comune. Il primo cittadino ha accolto i campioni e ha detto che il tutto è stato organizzato qualche giorno fa. Abbiamo voluto ricevervi nella piazza più grande della città di Porto Viro perché dopo due anni, nei quali anche a voi come a tutti è mancata la socialità, al di là del presidente Luigi Veronese, che non ha mai fatto mancare la sua foga, i tifosi si erano adattati alla visione online. Quindi l'idea di celebrarvi qui è per recuperare questo tempo. Io e Luigi siamo parenti e amici e ho assistito alla corsa iniziata qualche anno fa nel 2012. È stata una scalata. Luigi dalla parte di sportivo, io dalla mia parte, con passioni diverse ma simili. La prima volta che mi sono candidata a sindaco ho perso e mi sono detta ci riprovo ed eccomi qua. E anche Luigi, quando non ha vinto la Coppa Italia, quando non ha ottenuto subito la promozione, mi ha detto sono con te e insisto fino alla fine perché sono cocciuto. A lui, ha proseguito il sindaco, va il grande merito di essere caparbio. Il sindaco ha precisato che è difficile fare una cosa nuova ma che è molto più difficile fare una cosa che viva nel tempo. Avere un progetto che porta vittorie è molto difficile e anche riuscire a coinvolgere qualcuno e riuscire che il tuo sogno diventi anche il sogno degli altri, ha continuato Maura Veronese. Ora il sogno di Luigi Veronese è diventato il sogno di tanti. Il sindaco ha quindi donato una targa al presidente Luigi Veronese. Il vice sindaco Doriano Mancin ha detto che è un bel giorno. Siete l'orgoglio del giorno. Natalino Tumiatti, presidente onorario, all'inizio del campionato mi ha detto è a due, sicura. È stato di parola. Enorme ovviamente la soddisfazione del presidente Luigi Veronese. Per noi è un momento particolare e non posso aggiungere altro, ha detto.